Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo canale, non esce un video tipo da oggi di un mese, credo. Oggi non siamo sul Brawl, ma siamo sul Simulator e dobbiamo trovare i nuovi Brawler Draco e Lily. Dobbiamo trovarli nel Brawl Pass, guardate quante casse su cosa, possiamo attivare il Brawl Pass, guardate quante gemme ho, guardate. Quindi possiamo sciuppare questo Brawl Pass. Mamma mia quanto lagga, un nuovo Brawl Pass bloccato, bisogna cominciare a spettare. Ho trovato tutti i Power Point per tutti i Brawler, quindi troverò sempre zero skip, a meno che ci sia uno skip luminoso. Mamma mia quanto lagga. Cosa ci avete messo dentro? Vorrei mettere anche tipo i gadget, può fare, o upgradiamo le Brawler, tipo, i gadget. Ah, e mi è crashata, vabbè, non mi interessa. Aspettate, non sei. Aggiungiamo i gadget per fare più trick. Ok. In momento che troverò... no. 35 gemme. Così tanto, vabbè. Non trovo niente. Ne mani i gadget. Poi ci sono Power Point che vengono convertite in monè. Ora che ci penso, potrei maxare anche i Brawler. Lì li ha i Brawler quando li trovo, quindi è meglio non sprecarli. Guardate quante gemme su cose che ho. C'è un errore qua. Perché ho trovato Lì invece di trovare i gadget? Non mi fai trovare i Brawler, tipo, ah, ok. E posso maxare lì. Mi diamo avanti. Mi prendiamoci delle monete. Poi mi maxo all'Iri. Per ora fino a questa soglia. Poi... Troverò il Draco subito oppure troverò il gadget. Penso che troverò il gadget perché è un Brawler leggendario il Draco, quindi... E' pure tanky. Ma questo non c'è il 3. Intanto non sto trovando niente in questo momento. Tranquilli che se mi finiscono le gemme posso comprarle con tutte le monete che ho. E mi sono risparmiato quasi tante gemme. Perché il Brawl Pass scorso l'ho finito. Ora vi faccio vedere il titolo. Però io voglio pure il titolo è un bot. Appena esce il Brawl Pass versione A. Quello di Brock Hacker RPG. Un po' della fine. Ecco, guardate. Mio, quante monete! E il titolo è Godlike. In italiano non me lo ricordo. In tutto questo lo sto trovando in nessun Brawl. Avanziamo. Prendiamoci i miliardi di gemme. Oh! Oh, almeno. Ho trovato un gadget. Mi sembrava che c'era il Draco. Ma aspetta. Finisce il Drax o gli 50? Io sono già arrivato. Non è servito a niente. Io meno. Ora vado a aprire infinite mega casse con le gemme che mi sono rimaste. Ah, è ottimo. Tanto ho infinite gemme quindi. Adesso mi scioppo tutto. C'è infinite monete. Posso trovare tutto. Amici, ma ci siamo all'illie. Non trovo power-up però. Quello di sim. Che bella! La del... Sembra tipo la cosa della maestria. Cioè... Sembra tipo... Il titolo. Però con l'immagine del... Del coso profilo. Gemmoz. Poi c'è questa skin bellissima di Tic. Me c'è Tic di Roda Light. Che nome complicato in grado. Poi c'è me. Stavo dicendo. Il Tic me c'è che Roda Dark. C'è la versione scura. E poi abbiamo finito il Brawl Pass. Col titolo nuovo. Con tutte le gemme che mi sono rimaste. Poi c'è una cassa mega. Se trovo tre skip, quattro skip. Ah. Uffa. Non ho trovato niente. Ma almeno ho un bellissimo titolo. Gohira. Non so almeno come si legge. No no no. L'annuncio. Ok. L'annuncio è saltato. Ah. Powerpoint. Ho aperto 42.000 casse. Allora. Ho trovato il nuovo Brawl Pass. Possiamo upgradearlo. È uno spreco. No. Non lo voglio upgradeare. Posso aprire questa cassa con un ad. Aspettate. Eccola qui. La con una matata. Ma state scherzando? L'ho trovato il greco. Non mi interessa. Non mi interessa. Ho trovato tutti. I Brawler. Aspetta. E cosa dovrei fare con quelle miliardi di monete? Fare tutti power up? C'è... Ok. Però non so se effettivamente fare power up. Posso farli anche così. Ma mi danno pochissimi power up. E troverò un modo. In questo gioco power up se li dà random. Ma in realtà i power up dovrebbero essere dati più piccoli a più grande. Tipo... Adesso li li ha 20 ma draco il 15. Dovebbe essere il contrario. Draco 15 e poi li li 20. Aspetta. Devo trovare ancora... Sì. Devo trovare gadget. Che dire ragazzi. Abbiamo sciopato un nuovo pass. Sono contento perché ho fatto questa cosa. Ci vediamo la prossima. Aspettate che devo controllare. Ancora 100. Invece di lì c'è... Sembra di 100. Ok ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.